Ripensare una suddivisione della città in tre distretti commerciali, coinvolgendo anche le aree periferiche e non solo il centro storico, è la proposta presentata dalla Confu Commercio al Sindaco Mastella, all'assessore alle attività produttive del Comune di Benevento, tre le aree individuate, coinvolgendo però anche i comuni della provincia sannita. Non è la paracea, non è la risoluzione di tutti i problemi che attanagliano il comparto, ma sicuramente questo dei distretti commerciali, sia essi urbani che diffusi, permette la programmazione e quindi è un'occasione da non perdere, quindi non solo per quello che è il centro storico del Comune di Benevento, ma per l'intera provincia. Si spara così di riuscire a risollevare le sorti del settore tra i più colpiti dalla crisi. I commercianti, gli iscritti, gli artigiani, tutti aspettano un segnale. La crisi oggi è sotto gli occhi di tutti, noi come aree interne la stiamo vivendo e la stiamo patendo più delle altre aree della Campania. E così la nuova misura prevista dalla Regione per l'individuazione dei distretti commerciali, secondo l'associazione di categoria, diventa l'occasione per ripensare il commercio nel sanno. Questa è una misura che avevamo cercato da tempo, però benvenga. Quella di fare un solo distretto a Benevento ci sembra una limitazione. Non possiamo immaginare di tenere fuori aree periferiche della città, che periferiche non lo sono più. Mi riferisco a Pezzapiano, a Rione Ferrovia, a Rione Libertà. Vanno coinvolte e per certi versi vanno anche forse incentivate ancora di più del centro storico.